Per favore potrei riavere il mio pallone. Lei è il direttore sportivo? Sono Colby. Colby? Il nome non mi è nuovo. Un nome comune. Vedo che hanno molto entusiasmo. Non sono granché, ma di entusiasmo ne hanno molto. Giocato delle partite? Sì, facciamo un torneo, quattro divisioni. Facciamo anche incontri internazionali. Internazionali? Sì, Inghilterra, Irlanda, Scozia, Galles. Ah, e lei li chiama internazionali. Sarebbero internazionali se giocaste contro di noi. Vi massacreremo. Colby, John Colby. Sì, West Ham United e nazionale inglese. Esatto. Peccato, la guerra ha spezzato la sua carriera. Interrotto. Speriamolo. Tira, tira! Dai, avanti, passami! Passa, dai! Passa, passi! Dai, è più forte! Di testa, di testa! Da che fai? Al volo, al volo! Corri! E dai, tira! Qual è il verdetto per Williams? Uno spiacevole errore. Questa guerra è tutta uno spiacevole errore. Sono d'accordo. Ah, sì? Dai, dai, sotto! Lei può credermi o meno, fa lo stesso per me. Tira, dai! Ma se le nazioni potessero affrontarsi su un campo di calcio, non sarebbe una soluzione? Che cosa ne direbbe di giocare una partita contro una squadra della Bermak, una squadra della vicina base militare? E giocarci cosa? Che vince la guerra? Sfortunatamente no. Diciamo, per il morale. Il vostro o il nostro? Di entrambi. La vita in questo posto deve essere abbastanza noiosa. Che squadra è, professionisti? Non ho ancora formato una squadra, è soltanto un'idea. Non è un ordine, non ci può costringere. No, no, è una sfida. No, sarebbe un fiasco, un fiasco totale. Perché? Beh, ti guardi, ti guardi, sono una frana. Eh no, dico, guardi i vestiti e quegli scarponi. Corrono alla disperata, come un branco di elefanti. Giocare a calcio, si reggono appena in piedi. Si potrebbero equipaggiare. Vuol dire tutta la tenuta sportiva, magliette, calzoncini. No, no. Sarebbe inutile, non potrebbero correre per 90 minuti, finirebbero per sputare sangue. Bene, ma è un peccato. Ah, Maggiore. Ok, ma voglio un trattamento speciale e razioni speciali. La squadra dovrà vivere insieme, mangiare insieme. E voglio carne, verdure fresche, uova, birra. Ha parlato col colonnello? A prescindere da quello che dirà, se lei ci procurerà tutto quello che le ho chiesto, avrà la sua partita. Comunque che sia chiaro, se è limitata agli ufficiali, non ne facciamo niente. Voglio una squadra decente, voglio dei ragazzi. Come quelli laggiù. D'accordo? Bene, vedremo. Vedremo.